Mare cristallino, sabbia morbida, spiaggia attrezzata, fast food, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, passerella con accesso diretto al mare, parcheggio privato, spogliatoi con docce e molto altro! Al Lido Sud a Marina di Modica, la tua estate in uno degli scenari più suggestivi della Sicilia orientale. Lido Sud, spiaggia Marina di Modica, aperto tutto il giorno, tutti i giorni. Ciao!